Il 13 ottobre si è tenuta la presentazione del Movimento per l'etica e la cultura nello sport nella sede centrale della Luis Guido Carli di Viale Pola. Argomento centrale della tavola rotonda, l'educazione fisica nella scuola italiana. Quale futuro? Presidente onorario del Movimento, il direttore generale Luis per Luigi Celli, coordinatori nazionali Paolo Del Bene e Luigi Capasso. Il progetto nasce con l'obiettivo di rilanciare l'etica nello sport, puntando sull'educazione fisica nelle scuole. Grazie alla collaborazione di Luis e Sport Club, rivista che vanta numerose prestigiosi sponsor, tra cui provincia comune e regione di Roma. Per la web tv della Luis siamo in compagnia del direttore sportivo dell'università Paolo Del Bene. E questo è un fenomeno importante che nasce da lontano, da un'idea di Luigi Capasso e di Paolo Del Bene che attraverso la loro esperienza, lui di editore e io di insegnante pensavamo appunto di sviluppare qualcosa che racchiudesse un messaggio positivo per i nostri ragazzi, visti i notifatti che si sono succeduti qui in Italia. Mi riferisco ai tifosi, mi riferisco a persone, a studenti che picchiano i professori. Insomma, ci siamo detti che forse lo sport potesse in qualche maniera aiutare a sviluppare un atteggiamento positivo e quindi le coscienze. Ringrazio Pierluigi Celli per il fatto di aver accettato la presidenza onoraria, ringrazio la Luis che ci ha appunto ospitato e soprattutto perché crede in questo progetto come un momento formativo, come ha creduto dieci anni fa nello sport Luigi Abete che ha fatto sposare questo progetto. E adesso la testimonianza di Dino Zoff e Gianni Rivera, due grandi campioni del nostro calcio. Ci vuole etica perché bisogna vivere correttamente, serenamente, accettare le varie diversità e conviverci, anzi sfruttare la parte positiva di quelli che sono diversi da te e che hanno delle caratteristiche in certi settori magari migliori delle tue. Quindi rispetto delle regole, rispetto di se stessi, del rapporto con i propri compagni e lì ci stanno le diversità. È determinante l'etica, i comportamenti, il calcio crea degli esempi e quindi è importante che i comportamenti siano adeguati a questi esempi che i giovani possono prendere. Se vai a vedere una partita di bambini vedi che molti hanno dei comportamenti uguali ai grandi, quindi c'è questa responsabilità che bisogna portare avanti, insomma far sentire questa responsabilità ai grandi.